Lo aveva detto Galliani, subito dopo la vittoria con il Pisa che vassa la promozione in Serie A. Mercato? Io sono un noto spendacione. E finora la campagna acquisti del Monza non ha tradito le attese. Già sette le ufficialità, ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire. Da Petagna a Pinamonti fino ai sogni Marcello e Suarez sarà un'estate divertente per i tifosi biancorossi. Il primo giocatore a essere ufficializzato è stato Andrea Ranocchia, il 34enne difensore e ha lasciato l'Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni. Ha firmato un contratto fino al 2024. Il portiere della prossima stagione sarà Alessio Cragno, a proda e biancorossolo al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Il 28enne vanta 166 presenze in Serie A che lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri italiani degli ultimi anni. Dal Cagliari retrocesso è arrivato anche Andrea Carboni, il difensore 21enne nazionale Under 21 ha firmato un contratto fino al 2027. Capitolo centrocampo, il primo acquisto è Stefano Sensi, arriva dall'Inter a titolo temporaneo per un anno. Il 26enne ha il suo attivo 111 presenze, 9 reti in Serie A, oltre a 6 presenze in Champions League. Ma il vero grande colpo di questi primi 15 giorni di mercato del Monza è il ritorno di Matteo Pessina. Il centrocampista 25enne della nazionale arriva dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. Pessina è cresciuto proprio nelle giovanili del Monza prima di essere portato da Galliani al Milan. Per lui 102 presenze con 10 reti in Serie A, 11 gare con un gol in Champions League, 14 presenze e 4 gol con la nazionale con cui è diventato campione d'Europa. Sarà il capitano dei biancorossi. Ultimi acquisti a essere ufficializzati in ordine di tempo, il difensore Samuele Birindelli preso dal Pisa e il portiere Alessandro Sorrentino prelevato dal Pescara. Da segnalare infine sul fronte cessioni e le partenze di Bellusci, Somma Riva e Lombardi.